Nome. Teodore Kaczynski. Soprannome. Una bomber. Numero vittime. Tre accertate. Modus operandi. Bombarolo. Nasce a Chicago, il 22 maggio 1942, da genitori polacchi. La sua infanzia è segnata da una sua naturale riservatezza e timidezza che lo faranno sembrare asociale. A seguito di una reazione allergica, è ricoverato in ospedale per diverse settimane, e la visita dei genitori è limitata allo stretto indispensabile. Al suo ritorno a casa, Ted non sarà più lo stesso. Come conseguenza dell'abbandono, come lo giudicava lui, cambia tutto il suo modo di essere, e il bambino gioviale e allegro lascia il posto a uno più taciturno e rabbioso, che grida e piange sempre in cerca di aiuto e conforto dalla madre. Iniziano comunque le scuole e Ted, come tutti i bambini, inizia il suo percorso di formazione. In ogni passaggio di grado i suoi professori sono concordi in due cose, il carattere schivo e ombroso e l'intelligenza straordinaria. Il suo quoziente intellettivo era tra 160 e 170. Nell'Università del Michigan Teodore Kaczynski fa un corso di specializzazione in matematica, ed è qui che inizia la sua attività di ricercatore. La sua specializzazione è la teoria dell'analisi complessa, un ramo dello studio delle funzioni geometriche. Nel 67 Ted vince una borsa di studio per la sua relazione sulle funzioni lineari, e riesce a trovare la soluzione di un problema che lo stesso professore non era in grado di risolvere. Lasciato all'Università del Michigan, diventa assistente di matematica all'Università di Della California, a Berkeley. Qui il suo carattere schivo e asociale lo rende in viso ai suoi allievi, al punto che nel 69 rassegna le dimissioni. Rimasto senza lavoro, e senza casa, Ted si adatta a fare quello che può, vivendo in una baracca, lavorando saltuariamente. Dopo aver abbandonato l'impiego, Teodore Kaczynski è frustrato e deluso dalla vita, cerca di dare un significato a quella che è la sua rabbia, adottando il sistema di vendetta a lui più adatto. Le bombe. La sua prima bomba viene trovata nel maggio del 1978, nel parcheggio dell'Università di Chicago.Si tratta di un pacco che ha come mittente l'indirizzo del professor Bukleisch-Rist. Quando l'agente Terry Marker apre il pacchetto, questo gli esplode in faccia, ferendolo lievemente alla mano sinistra. Una seconda bomba, che aveva ancora una volta come bersaglio la facoltà della Northwestern University, fu lasciata da Ted Kaczynski sul tavolo di una delle aule, era fatta con una scatola di sigari. Un laureando della facoltà John Harris la vide e la aprì, anche qui l'esplosione non arriccò danni di rilievo né allo studente, né alle cose. Nel 1979, su un Boeing 727 volo 444 dell'American Airlines diretto da Chicago a Washington, ci fu un atterraggio d'emergenza dovuto a del fumo, conseguenza di un principio d'incendio, che entrava nella cabina di pilotaggio. Alcuni passeggeri furono intossicati dall'esalazione, tanta paura, ma niente di più. Non era comunque la prima bomba nel campo delle linee aeree. Dato che una bomba su un aereo di linea in America è un reato federale, fu investita dell'autorità d'indagine dell'FBI, che cominciò a collegare i vari attentati. Fu coniato appositamente l'acronimo UNABOMB, che sta per University Airlines Bomber. Ormai la scienza investigativa aveva aperto le porte al futuro, e John Douglas, esperto profiler che aveva avuto già a che fare con altri serial killer, iniziò il suo paziente esercizio di assemblaggio delle prove, andando anche contro i suoi colleghi. Ma a Douglas venne subito davanti il quadro chiaro della situazione, un progressivo miglioramento nella tecnica, e nella volontà di fare male. Da qui la deduzione di Douglas che gli attentati erano fatti da una persona con intelligenza fuori della norma, con un comportamento ossessivo, un uomo solo, di circa trent'anni, bianco. Dal 5 maggio 1982 al novembre 1985 continuano gli attentati. Pacchi bomba destinati a professori universitari e sugli aerei di linea. Fortunatamente fino ad ora nessun morto ma molti feriti. Nel dicembre del 1985, Hugh Campbell Scruton, commerciante e proprietario di un negozio di computer a Sacramento in California, vede un sacchetto di carta davanti al suo negozio, lo raccoglie e gli esplode in mano, uccidendolo. Il sacchetto conteneva chiodi, e uno di questi trasformatosi in proiettile gli aveva trapassato i polmoni, raggiungendo il cuore. Fino a ora una bomber aveva solo ferito o causato danni alle cose, da questo momento diventa un assassino. Seguirà poi un altro tentato omicidio ai danni del proprietario di un negozio di computer. Questo accanirsi contro negozi di computer diede ad Douglas la convinzione che una bomber fosse in qualche modo legato al mondo dell'istruzione, perché i computer ne sono un simbolo. Continuano i tentati omicidi fino al dicembre 1994. Thomas Mosser, direttore dell'agenzia pubblicitaria, il 10 dicembre del 1994 rimase ucciso aprendo un pacco spedito alla sua abitazione. Il 24 aprile dell'anno successivo, a Sacramento, California, muore Gilbert Murray, presidente della California Forestry Association. Il pacco era intestato al suo predecessore, Bill Denison. Finita la campagna dinamitarda iniziò quella che possiamo definire la fase di rivendicazione degli attentati di una bomber, per fare sapere a tutti che cosa stesse facendo e perché. Per fare questo redasse il suo manifesto di 35.000 parole e lo fece arrivare alle maggiori testate giornalistiche degli Stati Uniti d'America, il New York Times e il Washington Post, con la richiesta che fosse pubblicato, condizione necessaria perché lui smettesse di mettere bombe. Nel documento da lui redatto, si parlava dell'odio verso il nuovo e il progresso, e si diceva che l'avvento del computer non avrebbe portato all'uomo niente di buono. Bisognava quindi che il genere umano ritornasse indietro, vivendo più al contatto con la natura. Questo era anche il motivo per cui una bomber firmava i suoi ordigni con il legno, il ritorno cioè alla natura, usare materiali naturali. Fu proprio leggendo questi articoli firmati dall'una bomber che Davido Kakziniski, fratello di Teodore, e sua moglie Linda riconobbero il modo di parlare di Ted. È stata una decisione difficile ma alla fine optarono per la cosa più giusta e coraggiosa, anche se fosse costata la pena capitale al fratello, volevano salvare altre vite probabilmente in pericolo. Una bomber, l'interno della sua capanna dopo consigli con gli esperti e raggiunta la certezza che fosse proprio lui il serial killer, Davido denunciò Ted alle autorità, e questo permise di raggiungerlo nella sua baracca nel Montana. Il 3 aprile del 1996 una squadra di agenti dell'FBI, fecero irruzione e arrestarono Teodore Kakziniski. Il 22 gennaio dello stesso anno, si dichiarò colpevole di tutti i capi d'accusa e fu condannato, ma la pena capitale li fu risparmiata e commutata in ergastolo. . . .